Se vogliamo trovare un tema portante di questa puntata possiamo assolutamente dire che è la bellezza. Per scoprire come il trucco possa diventare una vera e propria forma d'arte abbiamo invitato nel nostro salotto un maestro nel campo, Nico Baggio. Benvenuto. Grazie, grazie per avermi spittato. E grazie a lei per essere qui con noi, anzi posso darti del tuo? Certamente. Nico per te l'immagine, la bellezza, l'aspetto sono una vera e propria missione, tu sei visagista, costumista, scenografo e make-up artist, ma qual è la definizione che più ti rappresenta? Sono uno che adoro l'estetica, oggi bisogna imparare soprattutto a capire, capire e tirare fuori la propria personalità, il proprio stile, tirare fuori il proprio carisma. E questa è la cosa più difficile? Ma è difficile, credo che da soli è difficile, però ecco perché bisogna tante volte chiedere aiuto a qualche esperto e insieme io dico prendiamoci per mano e cominciamo a fare un certo percorso. E come è nata questa passione? Avresti mai pensato che questo sarebbe stato il tuo futuro? Ma sì, è stata proprio diciamo la formazione, il mondo del cinema, il mondo della televisione, il mondo dello spettacolo, ho avuto modo di incontrare dei grandi personaggi. Come ad esempio, dai svilaci qualche aneddota. Io ho lavorato con grandi maestri, soprattutto scenografi, costumisti, Pierluigi Pizzi, Gianni Polidori, Mischa Scandela, gente che ha scritto delle pagine sull'enciclopedia dello spettacolo, ho lavorato con grandi registi, ho avuto modo di incontrare grandi personaggi del cinema, del teatro e della televisione, grandi attori. Penso, ho fatto per cinque anni il Festival del Cinema Venezia, da me sono passati tutti, da Sharon Stone a Michelle Pfeiffer, cioè quelli che venivano là dovevano per forza passare un po' al make-up. E spesso non si pensa a quello che sta dietro a tutte queste star, che non sarebbero così belle se non ci fosse la nostra mano. Ah, sicuramente, no no, ma non solo la mia, se non ci fossimo tutti noi, diciamo che il 70% del risultato è dato da quello che è l'entourage, no? E quando sei al trucco cosa provi? Cos'è per te la tua modella? Ma nasce un feeling molto così, molto profondo, cioè cerco innanzitutto non tanto di nascondere i difetti, non uso mai il make-up come una maschera, ma lo uso come una cosa interpretativa. Come fanno le donne a piacersi? E a proposito, tu hai scritto un libro che parla proprio di questo, si chiama Piacersi, un titolo davvero di impatto. Beh, questo è un manuale, no? Questo è un manuale dove racconta un po' tutte le tecniche, ma vedi, per esempio in questo libro io ho cominciato a parlare della bellezza dai primi del Novecento ai nostri giorni. Perché? Perché con la nascita del cinema nasce praticamente l'immagine di una donna che comincia a prendere, dettare delle regole. E piacersi appunto, partendo dagli anni passati, racconta un po' qual è stata anche l'evoluzione della bellezza. E invece qui con Emi, che hai dipinto come se fosse una tela d'artista, hai preparato un lavoro davvero straordinario. Guarda, lei è bellissima. È un make-up di tipo emozionale, è un make-up dove praticamente non si cerca di nascondere i difetti. Si punta molto a questo make-up dove davvero si cerca un'espressione nuova. Qualche consiglio te l'abbiamo rubato, l'ultimo prima di salutarci vorrei che mi consigliassi a me. Un trucco per un'occasione speciale magari. Ma guarda, mi piace molto la forma del tuo viso così. Secondo me la frangia è perfetta. Io la farei anche più squadrata, più geometrica, perché più la rendi geometrica più ti dà carattere. Più la rotondi, più diventa un po' dolce, un po' ruffiana, un po' retro. Nico, è stato un vero piacere, grazie davvero di cuore per i tuoi consigli. Io mi leggo subito il tuo libro. Grazie, grazie.